La supposta di oggi è a dir poco sconvolgente, perché non vedremo più il tondodoni come lo conoscevamo prima. Attenzione, guardate le parole, come possono togliere un'ipnosi. Guardiamo l'ipnosi delle parole, che possono farci vedere o possono chiuderci gli occhi, anche le orecchie. Guardate lo sfondo, osserviamo lo sfondo di uomini nudi, giovani, ragazzi, con i genitali in bella vista. Gli storici dell'arte ci dicono che non sanno bene che riferimenti Michelangelo di che cosa ci stia parlando in questo momento, perché possono essere riferimenti al mito greco, fauni, efebi. Ma chi c'è dietro la Sacra Famiglia? Qual è l'istituzione che è dietro all'iconografia della Sacra Famiglia? Pensateci. Cosa ci vuol dire Michelangelo? Forse, è una supposizione, attenzione. Però sono giovani, giovani, nudi, in pose maliziose, tutti uomini. Chi è quell'istituzione maschilista che ci parla di Sacra Famiglia? Il San Giovannino adorante lì vicino non è tanto adorante, sembra più un satiro, sembra più un diavoletto, sembra più... guardate com'è malizioso e come osserva non tanto la Sacra Famiglia ma il gruppo dietro. Non sarebbe inquietante se non fosse un bambino. Ma ancora peggio in primo piano. Cominciamo a vedere una cosa. Intanto gli arti, le braccia di Maria, si sovrappongono, si incastrano stranamente con quelle della figura dietro, Giuseppe, l'uomo. Quindi c'è questa stranezza visiva che ci confonde. Ma la cosa più inquietante è nella posa che assume Maria, o la donna, verso il figlio, se è il figlio, verso il bambino. Guardate, è sconvolgente se la guardiamo sapendo che stiamo cercando qualcosa a cui non avevamo mai fatto caso. Se andiamo poi nel particolare a ingrandire, la cosa è ancora più inquietante. Parliamo sempre di quello. Michelangelo ci parla spesso di questa cosa. Perché? Potremmo approfondire ipotizzando, facendo supposizioni, ma è sufficiente quello che stiamo vedendo. Per esempio anche lo sguardo del bambino. Guardate che è ben poco fanciullesco. E addirittura come tiene le mani sulla testa della donna. Quindi quello che noi stiamo vedendo adesso non è più il tondo Doni che ci racconta la storia dell'arte classica. Vediamo una realtà diversa. Vediamo un'altra cosa che è sempre stata subliminale. Cioè sublimite, sotto il limite della nostra coscienza razionale. E' uno dei dipinti più famosi del mondo. E non lo abbiamo mai visto sotto questa luce. Basta cambiare le parole e il dipinto cambia. La realtà non è diversa dalla pittura. Funziona uguale. Basta cambiare le parole e cambia la realtà. Se vi è piaciuta questa supposizione, questa supposta, chiedetemene altre. E io le inserirò nel web. Ciao e grazie.